L'Italia ha una dotazione infrastrutturale inferiore del 19,5% rispetto alla media europea e nelle otto regioni più manifatturiere, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli, Toscana e Marche, il gap di infrastrutture sale al 20,6 rispetto alle regioni competitor della Germania. Tra il 2009 e il 2017 gli investimenti pubblici sono crollati del 37,7%, provocando la perdita di 122.000 posti di lavoro nel settore delle costruzioni. Nel 2018 il valore degli investimenti pubblici in Italia è inferiore di oltre 17 miliardi in confronto alla media europea. Sono i numeri dei ritardi sul fronte delle infrastrutture italiane e del loro impatto negativo sulle piccole imprese che Confartigianato ha denunciato lo scorso 13 dicembre a Milano alla manifestazione Quelli del Sì con 2.000 piccoli imprenditori arrivati da tutta Italia per chiedere politiche che rimettano in moto lo sviluppo del paese partendo dallo sviluppo delle imprese. Presente è anche una folta delegazione da Confartigianato Imprese Cuneo in rappresentanza dell'importante settore produttivo dell'artigianato e delle piccole e medie imprese della Granda. Durante l'assemblea è intervenuto Giorgio Felici, vicepresidente vicario di Confartigianato Cuneo e presidente regionale di Confartigianato Piemonte che ha illustrato in particolare le criticità legate alla TAV. Qui per riportare su un piano di pragmatismo un tema che invece è stato ideologizzato come spesso capita in Italia che è stato gestito in modo approssimativo nella fattispecie quello della TAV ma in Italia abbiamo anche tanti altri problemi che sono frutto di una gestione ideologica la fiscalità ad esempio. Noi oggi siamo qui per dire allo sviluppo, alle infrastrutture, a ciò che serve questa nazione per smettere di essere non competitiva rispetto agli altri nostri colleghi degli altri paesi europei. Le infrastrutture devono essere completate e connesse con decisione senza perdere altro tempo perché ogni minuto che passa le aziende nostre perdono soldi, perdono la possibilità di esportare. Già l'export è un traino per la nostra economia. Diciamo che le infrastrutture una volta completate costituirebbero un moltiplicatore che ci porrebbero sicuramente molto al di sopra dei livelli dei nostri concorrenti. È un suicidio non completarle. Oggi qui c'è il nostro mondo e che sono tutte le associazioni nostre territoriali ma c'è anche la micro e piccola impresa che in questo paese è il 99,4%. Se vogliono tenerne conto questa è la realtà. Se pensano che bisogna guardare altrove poi c'è sempre un 4 di dicembre o 4 di marzo. L'Europa e l'euro per noi tutto sommato vanno bene, sono un valore. Va tutto bene nella comunità europea? No. Ci sono cose che non vanno bene. Basta guardare la burocrazia che ci sta rovisciando addosso. Con cose alquanto discutibili. E lì c'è da lavorare. Perché non possiamo pensare di sostituire la burocrazia italiana con la burocrazia europea. E quindi c'è da lavorare e rimettere in riga alcune cose. A Antonio Tagliani l'abbiamo spiegato. L'Europa sia madre e non matrigna. E non faccia gli errori che si fanno negli stati. Se no non ci siamo. L'euro comunque rispetto a un sistema finanziario globale, una globalizzazione del sistema finanziario che crea problemi è tutto sommato un valore. Come pure la libera circolazione. Ma queste cose qui magari si vanno a contestare perché si danno per scontate. Noi abbiamo deciso la mobilitazione davanti ai rischi che è lo sforzo a cui stanno mettendo mano in questi anni le imprese per tornare competitive dopo gli anni terribili che sono seguiti alla crisi del 2008-2009. Perché questo sforzo non venga interrotto. È un segnale che vogliamo dare chiaro al governo nel momento in cui sta mettendo mano la legge di bilancio. Ma anche per l'azione complessiva che deve per noi essere nella direzione dello sviluppo. È una giornata importante in un contesto bellissimo che vede una grossa partecipazione delle aziende italiane, della piccola impresa per ribadire questo sì allo sviluppo, sì alle infrastrutture, sì a tutto ciò che crea lavoro e dà la possibilità al nostro Paese di competere rispetto ai mercati nazionali e internazionali. Quindi un momento sicuramente emozionante di grande partecipazione che ribadisce il ruolo politico-sindacale della nostra organizzazione che si pone come soggetto che guarda non solo all'interesse della categoria ma all'interesse del Paese. Sviluppo della piccola impresa, sviluppo dell'imprenditoria vuol dire sviluppo del Paese Italia. Questo noi lo ribadiamo con grande forza. Noi vogliamo il nostro lavoro che sia portato in prima persona, portato avanti perché noi abbiamo bisogno di lavorare e le infrastrutture ci permettono di allargarci e di poter andare anche presenti nel mondo, nell'Europa e sempre più essere presenti e poter difendere le nostre capacità. È un momento molto importante questo, sicuramente. È un momento dove l'Italia deve essere unita con tutto il resto dell'Europa. È un momento di crescita e un momento di sviluppo e siamo qui per dire sì. Le infrastrutture sono fondamentali per la ripresa economica del Paese. Se si pensa che a Cuneo non riusciamo a fare quel piccolo tratto di autostrada che potrebbe collegare il nostro capoluogo di provincia con il resto della regione, immaginiamoci i danni a livello nazionale, cosa può ripercuotere sulle nostre imprese la mancata prosecuzione dell'alta velocità. Quindi è fondamentale dire sì e continuare con cosa è già stato iniziato. Il movimento donne è sempre attivo anche sui piani di lavoro, soprattutto per quanto riguarda quello del sì e per le infrastrutture. Ricordiamo che in Italia non c'è un piano strutturale per quanto riguarda le infrastrutture ormai da anni. Le imprese in rosa sono in continuo aumento, le donne imprenditrici sono in continuo aumento, quindi è giusto che noi rappresentiamo la nostra categoria, è giusto che le imprese in rosa e le donne stesse, quindi le artigiane e le imprenditrici, oggi siano qua per dar voce a questa istanza. Quindi il sì alle infrastrutture, il sì per uno sviluppo del territorio, non soltanto a livello territoriale e provinciale, ma a livello nazionale, quindi sì alle infrastrutture, per dire sì agli artigiani e sia alle medie e piccole imprese. Il problema nostro è che l'edilizia comunque continua a ristagnare e continuiamo a perdere posti di lavoro su tutto il settore. Le grandi opere sicuramente non toccano noi direttamente, ma indirettamente, certamente, perché poi tutto il contorno è nostro, anche se non direttamente, ma indirettamente. E quindi auguriamoci che il governo ripensi, ripensi alla TAV e che ci dia una volta per tutte questo sì che aspettiamo tutti. Noi siamo quelli del sì, ci siamo ritrovati qui oggi, siamo in tanti, dal Piemonte arriviamo con un numero congruo, siamo più di 200, perché questo era il numero che ogni associazione doveva portare. Quello che posso dire è che partendo da Torino, col CTAV, noi siamo quelli del sì, ma non solo per la TAV, ma per tutte le infrastrutture che ci sono in Italia. Con Farginato Cune non poteva mancare a questo appuntamento, noi siamo quelli del sì, sosteniamo le infrastrutture, sosteniamo lo sviluppo dell'Italia, le nostre imprese hanno bisogno di infrastrutture, sia fisiche che anche telematiche, per poter accedere ai mercati, per poter accedere all'Europa e a tutti i canali di sviluppo della nostra economia. Oggi si parla molto dei corpi intermedi, i corpi intermedi hanno una funzione strategica per lo sviluppo dell'Italia, non si può disintermediare il rapporto che c'è tra la politica e le imprese. Crediamo che attraverso la rappresentanza sindacale, la rappresentanza degli interessi, si possa fare il bene delle nostre imprese e il bene del Paese. Grazie a tutti.